Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per chiedervi un piccolo favore In occasione del Carlino d'Oro 2017, che è una manifestazione in cui premiano i migliori attretti dell'anno, vi vorrei chiedere un piccolo aiuto Nella scorsa edizione sono stata il più votato della provincia di Ferrara Ma quest'anno, visto che ne siete molti di più rispetto allo scorso, penso possiate regalarmi qualcosa in più Sarei felicissimo se mi votaste, vi lascio tutti i link in descrizione e vi spiegherò come si fa Per chi non lo fosse già, occorre riscriversi al sito del Carlino Dunque, bisognerà andare su Google e cercare il Carlino d'Oro Selezionare la prima pagina e vi ritroverete di fronte a questa grafica con tutte le città Voi selezionate Ferrara, in seguito andare in alto a destra dove c'è scritto Classifica Ferrara Troverete il mio nome assieme a quello degli altri partecipanti Cliccare sul più con la freccia e successivamente avrete il coupon già compilato Bisogna solamente registrarsi, per chi non lo fosse già Andare su Login, Registrati e compilare il modulo specifico Una volta completata la registrazione, vi arriverà un email con un codice da confermare nella vostra casella di posta elettronica Successivamente saremo rendirizzati nella pagina del Login e accedete con le vostre credenziali In seguito ripetere la procedura precedente Andare quindi in Classifica Ferrara selezionando il mio nome Dopo aver compilato il coupon, confermare il voto per email Potrete esprimere un voto al giorno, quindi avete la possibilità di votarmi più volte Grazie di cuore a chi mi voterà cercando di farmi raggiungere un'altra piccola soddisfazione Inoltre per ringraziarvi tutti abbiamo deciso di lanciare due hashtag Il primo è hashtag domanda Con l'hashtag domanda mi potrete rivolgere alle vostre curiosità E io vi risponderò con un filmato Mentre il secondo è hashtag format Dove potrete indicarmi quale tipologia di video vi piacerebbe che facessi oltre i soliti delle partite I due hashtag in questione verranno considerati solo sotto questo video Quindi commentate e ci si vede sul campo Un'altra volta che deve essere spessi oltre i soliti In the name of love Name of love